Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10. L'apertura del telegiornale è dedicata alla fiaccolata promossa ieri sera a Gela dalle mogli degli ex operai dell'indotto dello stabilimento Eni. Chiedono lavoro per i propri coniugi. Non siamo invisibili e non perdiamo la speranza, hanno detto. Vediamo. Infreddolite ma coriace a tutto sono le mogli degli ex operai dell'indotto dello stabilimento Eni di Gela. Stanche e deluse di ascoltare solo promesse allo stato attuale. Mancano i fatti. E ieri sera in piazza Umberto I hanno promosso una fiaccolata simbolica sotto l'albero di Natale. Non siamo invisibili e non perdiamo la speranza, hanno detto. Gli ammortizzatori sociali sono oramai scaduti da mesi e aumentano i padri di famiglia che sono in difficoltà. Il lavoro è dignità. Vogliamo che i nostri mariti tornino a lavorare. Questa fiaccolata è la fiaccolata del silenzio contro il silenzio perché noi vogliamo lavoro, non ce la facciamo più, vogliamo risposta. Ci sono operai, persone che hanno disagi, una Gela in cinocchio, una Gela disperata. Vogliamo risposte, solo risposte da parte delle istituzioni, dei politici locali, regionali, da parte della Chiesa, da parte di tutti. Basta più, non ce la facciamo più. Vogliamo soltanto lavoro per tutti e non solo per l'indotto. Abbiamo finito pure gli ammortizzatori sociali e quindi chiediamo che almeno ci ridiano il nostro posto di lavoro. Vogliamo il lavoro, non vogliamo assistenzialismo, vogliamo il lavoro. Quando noi troviamo qualche lavoro al di fuori di Gela siamo costretti a peregrinare fuori, a lasciare la famiglia, i bambini e a lasciare tutto. Noi in questa città ci abbiamo creduto, abbiamo investito, abbiamo mutuo da pagare, abbiamo bambini che vanno a scuola e ci crediamo e vogliamo rimanere nella nostra città. Ho visto di giorno in giorno che stiamo andando sempre indietro, di tutto, senza lavoro. È una giperazione questa. Una forma di protesta pacifica, quella scelta dalle donne, ma che potrebbe sfociare nei prossimi giorni in qualcosa di più concreto. Per dire basta ai silenzi di chi ci rappresenta e sta assistendo alla morte di un'intera città. Quella di ieri sera è stata una fiaccolata del silenzio contro il silenzio. Una città dove i negozi chiudono, una città semivuota, una città ostaggio della criminalità, perché ogni sera bruciano i ragazzi senza lavoro, senza futuro. Siamo disperati. Al sindaco chiediamo di venirci incontro, di aiutarci. Non vogliamo assistenzialismo, ma però vogliamo delle risposte. Vogliamo i fatti, vogliamo il lavoro. Il lavoro è dignità. Chiediamo solo questo, il lavoro. Intanto il vice sindaco di Gera, Simone Siciliano, assicura che quest'anno partiranno numerosi cantieri in città. Sentiamo. Simone Siciliano, ieri sera in piazza Umberto I, fiaccolata pacifica da parte delle mogli degli operai che hanno perduto il posto di lavoro, ci riferiamo agli operai dell'indotto, chiedono fatti concreti dell'amministrazione comunale, non la solità, solidarietà. Come risponde l'amministrazione comunale? Rispondiamo con delle azioni concrete, così come i fatti concreti che chiedono le donne, ma come tutta la città gelese, a gran voce. Il 2017 sarà un anno in cui diversi cantieri verranno avviati in città grazie ai fondi del Patto per il Sud. Ricordo che ci sono 30 progetti che sono stati avviati alla regione per portarli in gara. Ci sono poi i cantieri che riguardano le royalties, sono altri progetti di urbanizzazione della città, quindi tutto il settore che riguarda la riqualificazione cittadina, soprattutto di aree periferiche, come ad esempio la parte nord del museo, piuttosto che alla fine di via Reganati, verranno interessate da cantieri reali. Dall'altro ci sono i fondi dell'agenda urbana, siamo stati selezionati assieme a Comune di Vittoria per un totale di 40 milioni di euro per progetti che hanno ricaduto a carattere prevalentemente sociale, quindi per il combarto anziano, per le categorie più svantaggiate, per un miglioramento della pubblica amministrazione, quindi dei servizi che la pubblica amministrazione può dare alla città e per tutto quello che riguarda il ripristino di aree con gravi problemi sismici. Dall'altro ci sono delle iniziative più incisive che riguardano il popolo direttamente. Uno di questi è stato avviato a fine gennaio, è un bando per le start-up chiamato Job Start-up che sta riscudendo un notevole successo. Molti ragazzi, molti giovani talenti si sono avvicinati all'amministrazione, giovani talenti che rappresentano il tessuto, la futura classe imprenditoriale che riceveranno un incendio per le idee che porteranno da qui a maggio, idee che potranno diventare nuove attività imprenditoriali. La sostanza lei dice che il 2017, l'anno che è appena cominciato, sarà importante proprio a livello occupazionale, partiranno realmente i cantieri? È un anno di raccolta dei risultati coltivati nel 2016, si vedranno avviare finalmente il cantiere della Green Refinery che è quello che dovrebbe tamponare la maggior parte della crisi dovuta alle difficoltà dell'indotto storico e a questo si concateneranno tutta una serie di iniziative, come vi ho già elencato, di riqualificazione urbana e di aiuti diretti per i comparti più in difficoltà, quale ad esempio il settore agricolo, soprattutto per quello che riguarda anche lì la giovane venditoria, la sperimentazione di nuove culture, soprattutto con carattere industriale. Però finora siamo in Siciliano, abbiamo ascoltato fiumi di parole, fatti concreti al momento attuale però non ce ne sono. Questi sono fatti concreti perché Job Start-up è un fatto concreto, sono dei fondi pubblici dell'amministrazione che sta investendo sulla giovane venditoria. A fine mese partirà un altro bando che dovrebbe aiutare il comparto edile incentivando i cantiere dell'edilizia privata. Anche Gela ha la sua piccola Stone Angel, una cosiddetta pietra calendario, è stata scoperta a 8 km dalla città, poche decine di metri dalla necroponi preistorica di Grotticelle. Si tratta di un megalite forato non dalla natura ma dagli uomini dell'età del bronzo che lo utilizzavano come orologio solare per misurare le stagioni e gli anni, avendo come riferimento i movimenti del sistema astrale. Autori dell'eccezionale ritrovamento sono stati l'archeologo Giuseppe Laspina con i suoi amici Michele Curto, Mario Bracciaventi e il supporto tecnico di Vincenzo Madonia, tutti impegnati nel sociale e appassionati di archeologia. L'hanno effettuato mentre facevano un tour ricognitivo ai bunker antischeggia del secondo conflitto mondiale presenti lungo la statale che da Gela porta a Catania. Il direttore regionale del gruppo archeologico d'Italia, Alberto Scuderi, noto studioso di archeoastronomia, ha intuito dal minuzioso rapporto ricevuto l'importanza del sito, suggerendo tutte le verifiche necessarie per una conferma scientifica. L'esperimento è stato effettuato lo scorso dicembre durante il solstizio d'inverno con l'ausilio di una bussola, macchine fotografiche e di una videocamera installata su un drone dotato di GPS. Il successo è stato totale. Il consigliere comunale di un'altra Gela, Totò Sammito, punta il dito contro la decisione dell'amministrazione comunale di prorogare per tutto il 2017 servizi resi alla città dalla GELAS Multiservizi. Erbacce per strada ad altezza Duomo, afferma Sammito, servizi cimiteriali assenti, illuminazione pubblica scadente, impianti sportivi fatiscenti e come premio per i disservizi l'amministrazione che Sammito ritiene cieca, proroga il servizio alla GELAS, i cui dipendenti lavorano con impegni e abnegazione con i mezzi a loro disposizione. Il problema è nella scarsa programmazione. Probabilmente dopo la mancata approvazione del PUM e ritardi con danni alle casse del Comune della gara sulle strisce blu, questa giunta vuole tendere una mano ad una parte della sinistra che teme. Gli aiuti del governo rivolti solo a Taranto, mentre GELAS rimane una città dimenticata, tutta colpa della classe politica che ci rappresenta, lo dice in una nota il leader di un'altra GELAS, Lucio Greco, in merito alla crisi economica e sociale che sta attraversando la città, acquita dalla chiusura della raffineria. La carenza di una classe politica qualificata e capace di interpretare le istanze fondamentali della comunità, scrive Greco, soprattutto nella situazione complessa creatasi con la chiusura dello stabilimento, limitano la forza di contrattazione tanto nei confronti dell'industria quanto nei rapporti con le istituzioni pubbliche nazionali. Così, mentre per Taranto, città simbolo a Simagela del degrado economico, sociale ed ambientale causato dall'insedimento di importanti industrie, proprio a Natale, il 24 dicembre scorso, è stato valato dal governo Gentiloni un decreto legge con cui vengono stanziati 108 milioni di euro di risorse destinate alla città pugliese e sulla sua sanità, in particolare oltre a 30 milioni per le famiglie disagiate. Per Gela, invece, niente di niente, neanche l'ombra di una semplice attenzione. Ma c'è da meravigliarsi per questo diverso trattamento, si domanda Greco? Assolutamente no. E diciamo finalmente la maravidità. Noi gelesi dobbiamo prendere atto della delegittimazione di chi dovrebbe rappresentarci sia a livello locale che regionale ed abbandonare quindi il campo da ogni possibile ottimismo. Quale credibilità e quale forza contrattuale possono avere, infatti, un sindaco ed un governatore dai quali prendono le distanze persino gli stessi partiti di appartenenza? Quale credibilità può avere un sindaco che, espulso dal Movimento 5 Stelle, si è inventato, pur di galleggiare, un movimento locale privo di qualsiasi identità? Quale credibilità può avere un governatore che annuncia urbi e torbi risultati economici ed occupazionali entusiasmanti per essere smentito, subito dopo, dai suoi stessi uffici che parlano, invece, di una situazione economica ed occupazionale disarmante e seriamente preoccupante, se non addirittura drammatica, per la nostra regione? Dispensare ottimismo, così come fanno Messinesi e Crocetta, e ricorrere a dati falsi, chiude Greco, può funzionare solo per qualche giorno, ma poi alla lunga si procura solo discredito. Al punto in cui siamo arrivati ci vuole una vera e propria inversione di lotta. Prorogate fino al prossimo 28 febbraio le limitazioni al traffico in vigore sinora per ridurre l'inquinamento atmosferico in via Venezia a Gela. La decisione è stata adottata dal sindaco Domenico Messinese e superposta del comandante della Polizia Municipale Giuseppe Montana, in attesa di verificare nei prossimi giorni lo stato della qualità dell'aria con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, l'azienda sanitaria provinciale, i settori dell'ambiente del libero consorzio di Caltanissette e del comune di Gela. L'ordinanza ad orari prestabiliti riguarda soprattutto gli autoveicoli di massa complessiva superiore a pieno carico a tre tonnellate e mezzo. I mezzi esclusi sono quelli adibiti al trasporto di persone, al soccorso o che svolgono pubblici servizi essenziali. E adesso spazio al mistero del tesoro che era custodito nella chiesa Sant'Agostino di Gela che secondo quanto denuncia lo storico Nuccio Mulè è stato portato via dai frati agostiniani. Vediamo. Una tela settecentesca con cornice quadribolata raffigurante lagostiniano terranovese Beato Giovanni Guccio, una tela settecentesca raffigurante Sant'Agostino, una tela datata del 1627 raffigurante il ritorno d'Egitto ed ancora libri antichi e argenti, beni di inestimabile valore che erano custoditi nella chiesa Sant'Agostino in piazza Salandra a Gela. Erano infatti custoditi. Adesso non ci sono più da quando i frati hanno lasciato la struttura. Che fine hanno fatto? L'interrogativo se lo pone lo storico Nuccio Mulè che già il 17 ottobre scorso inviò al soprintendente beni culturali di Caltanissetta e per conoscenza anche al vescovo della diocesi di Piazza Almerina una lettera con cui si chiedeva di sapere se i padri agostiniani di Gela, dopo aver lasciato definitivamente la chiesa e il convento, avessero chiesto l'autorizzazione a trasferire la serie di beni culturali assieme ad altro materiale di valore di varie epoche, il tutto già ampiamente storicizzato. Domanda che al momento attuale non ha mai avuto alcuna risposta. A questi beni così importanti dove sono finiti? Se li sono portati gli agostiniani e ci hanno graziosamente lasciato i beni culturali che erano dentro la chiesa. Non riesco a capire come mai se questi reperti, questi beni culturali che erano nel convento se li sono portati via, che erano, loro dicono, di proprietà esclusiva, mentre quelli della chiesa li hanno lasciati, allora dovevano anche portarsi quelli della chiesa. Siccome il sottoscritto è convinto che il bene culturale che era nel convento, i beni culturali che erano nel convento, così come quelli della chiesa, sono di proprietà della città e non degli agostiniani, anche perché sono stati storicizzati. Per esempio, la tela del 1627 è lì da circa quattro secoli. Quindi non vedo perché loro si siano portati via tutte queste enorme quantità di materiale che non si riesce a capire quanti e quale. Ricordo che alle quattro di mattina hanno fatto un cambio e se li sono portati via per evitare eventuali proteste di parrocchiani e anche quella mia. Io per evitare di imbattare contro le istituzioni, contro gli stessi agostiniani, mi sono rivolto alla soprintendenza per capire se era legittimo questo trasferimento e in base a che cosa l'abbiamo fatto. Non ho avuto nessuna risposta, nemmeno una risposta di cortesia. Io già mi sto attivando per fare un esposto alle competenti autorità, perché non deve andare in porto questa cosa. Immaginate se domani se ne vanno via gli altri in ordini religiosi. Le chieste rimangono senza beni culturali, è una cosa assurda. Si configura un reato, approvazione in debita. Saranno le competenti autorità a decidere quello che è accaduto, se poteva accadere. Continua fino al 6 gennaio prossimo nei locali del Palazzo di Città la terza mostra di presepi, presepi in comune, realizzata dalle scuole locali e promossa dall'associazione turistica Proloco Gela. L'iniziativa il cui ingresso è gratuito manifesta il percorso di educazione alla cittadinanza attiva che sta alla base del progetto turistico della Proloco. È presente anche una bancarella di beneficenza del Soroptimist Club di Gela. La mostra potrà essere visitata dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.30. Il 6 gennaio è prevista anche una pesca dell'Epifania alle ore 18.30. Può essere visitato domani e il 6 gennaio il presepe vivente è allestito dall'associazione Smaffo Sport, Musica, Arte e Folclore presiduta da Gaetano Davide Rizzi. Appuntamento dalle 19.00 a mezzanotte nel quartiere Canalazzo a Gela. Tombolata di solidarietà venerdì 6 gennaio alle 18.00 nel locale di Palazzo Ducale a Gela in Palio ricchi premi e tanto divertimento per tutti. L'iniziativa è del Rotary Club Gela, Demetre Core, il Pungolo e del Comune. Ciao a tutti, auguri di buon anno, un augurio sincero. È stato un anno di duro lavoro, un lavoro però che ci ha permesso di cambiare registro, di cambiare, di invertire la marcia di una macchina che sta mandando di Italia sul burrone e che comincia invece a muoversi nella direzione giusta. Abbiamo fatto un accordo con lo Stato per 1.600.000.000 in più facendo rispettare finalmente dopo tanti anni lo statuto della regione siciliana, un accordo con il Governo nazionale per fare 3.300.000.000 di cantieri, abbiamo fatto una legge per i precari. L'economia riprende più che altrove, il PIL in Sicilia l'1,6% a fronte di uno 0,8% nazionale, l'occupazione comincia a crescere, 0,8% in Italia, 2,4% in Sicilia. Stiamo facendo dei progressi, siamo contenti? No. Abbiamo già fatto una legge per stabilizzare i precari dopo 20 anni e adesso dobbiamo pensare ad altre cose. Spendere i soldi dei cantieri per fare immediatamente lavoro in tutta la Sicilia, per le imprese, per i giovani e per i disoccupati, avviare i cantieri della programmazione europea, in pratica partire dagli elementi che ci sono di sviluppo per andare avanti, per non tornare indietro, per nuovi traguardi. Il 2017 deve essere l'anno anche in cui parte il progetto per dare ai più poveri una forma di solidarietà. Il salario di inclusione per tutte quelle famiglie che hanno meno di 5.000 euro l'anno non si può vivere in quelle condizioni. Dobbiamo pensare ai più poveri, dobbiamo pensare alle imprese, sviluppo e solidarietà che debbano andare avanti. Rigore nella spesa, nella lotta agli sprechi e alla corruzione, però rigore senza macelleria sociale. Auguri a tutti i siciliani di cuore per una Sicilia migliore, per una Sicilia che dobbiamo portare avanti, per una Sicilia che si deve riscattare, per una Sicilia che non può essere più quella del passato, ma una Sicilia che cambia e io voglio ringraziare tutti voi per avermi dato la possibilità insieme a voi di cominciare questo grande cambiamento della Sicilia. Fai la cosa giusta, differenzi ai rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, mercoledì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione gli imballaggi in plastica e metallo, multimateriale, nell'apposito sacco trasparente. Cosa conferire? Plastica, piatti e bicchieri monouso in plastica, bottiglie di acqua e bibite, flaconi, taniche, dispenser e tubetti vuoti per detergenti, detersivi, shampoo e dentifricio. Prodotti per l'igiene della persona e della casa, vaschette, contenitori, buste e sacchetti per alimenti, imballaggi in polistirolo, reggette e stringipacchi, blister, reti e cassette per frutta e verdura, contenitori con sigle PET, PWC, PPP, PS. Cosa conferire metalli? Lattine per bevande, scatole e lattine in banda stagnata, contenitori in metallo, pelati, tonno, mais, cibo per animali, contenitori di prodotti per l'igiene personale, tappi, coperchi e stampi per dolci in metallo, carta in alluminio di uso domestico pulita, contenitori in alluminio per alimenti puliti, bombolette spray vuote, non pericolose, coperti, coperchi in alluminio degli yogurt, lattine con il simbolo AL. Come conferire il multimateriale? Gli imballaggi in plastica, assieme agli imballaggi in metallo, alluminio, banda stagnata e metalli, vanno conferiti puliti utilizzando l'apposito sacco trasparente. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Salutando il Natale, il tema del concerto lirico sinfonico che si darà a Gela sabato 7 gennaio alle ore 19.30 nella chiesa San Francesco di Paola. L'evento è organizzato dall'orchestra di fiati Francesco Renda con il patrocino del Comune. In scaletta un vasto repertorio di musica classica che richiama la festa del Natale, e dirigerà l'orchestra e il maestro Mirko Musco. Continuano gli appuntamenti inseriti nella 83esima stagione concertistica gelese promossa dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra. Domani alle 19 nei locali del Palazzo della Cultura Principessa Pignateli Roviano si terrà il concerto con i docenti dell'Istituto Musicale Nova Gelas diretti dal maestro Salvatore Grimaldi. Con l'epifania sono in arrivo gelo e neve. A bassa quota venti burrascosi con raffiche fino a 100 km orari e mari molto agitati con onde alte fino a 6 metri. Le temperature notturne scenderanno fino a meno 8 al nord e fino a meno 20 sulle Alpi, meno 4 al centro e al sud e in pianura. Come a Roma, che è previsto dai meteorologi di Meteo.it, la settimana del 2017 sarà decisamente movimentata. In Italia il gelo arriverà tra giovedì e sabato. La perturbazione porterà un deciso peggioramento del tempo sul medio adriatico e al sud, affermano gli esperti. Il rischio di nevicate sarà accompagnato da un tracollo delle temperature e da venti geli di selitte andrionali. Nelle giornate di venerdì, ovvero il giorno delle epifanie, di sabato è previsto il picco del gelo, con il rischio di neve non solo sui settori interni, ma anche lungo le coste del medio adriatico, al sud e nel nord della Sicilia. Il freddo sarà ancora più pungente per effetto del raffreddamento del vento, causato dai forti e geli di venti settentrionali che soffieranno con raffiche fino a 100 km orari. I mari saranno molto agitati al centro-sud, con onde da 4 a 6 metri. Omini, mezzi, omini, ominicchi e qua, 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 qua. Il titolo di un libro scritto da Antonio Scandrello che verrà presentato il prossimo 13 gennaio alle 17 nei locali della Biblioteca Comunale in via Butera a Gela. Relazionerà Biagio Pardo. Alla presentazione interverranno tra gli altri Angelo Fasulo, ex sindaco di Gela, Patrizia Zanone, l'assessore comunale Francesco Salinitro e il sindaco Domenico Messinese. Proseguono le iniziative solidali, soprattutto durante il periodo di festa all'interno della parrocchia Santa Croce. In queste settimane, infatti, sono state organizzate anche altre attività, come ad esempio da parte di un gruppo parrocchiale, la serata danzante, per trascorrere del tempo in compagnia, ballando o giocando a tombola. Sabato 7 gennaio 2017, invece, un gruppo di scout di Enna, insieme ad un gruppo di scout nisseni, organizza una cena per i più bisognosi. Circa 50, infatti, le persone, che si ritroveranno il giorno dopo l'Epifania nei locali della parrocchia, che ha subito accolto l'iniziativa. È un'iniziativa che hanno preso gli scout di Enna, che è in gemellaggio con gli scout di Caltanissetta, e stanno pensando di trascorrere alcuni giorni qui a Caltanissetta, e nel frattempo, sabato, organizzano una cena per le persone più bisognose della nostra parrocchia. E questa è un'iniziativa molto bella, perché parte da loro, in questo spirito di servizio, nel clima del Natale, hanno deciso di mettersi al servizio delle persone più bisognose. Abbiamo già organizzato altre cose con queste persone, un momento di festa, di ballo, di gioia, oltre altri decenni che abbiamo già fatto prima di Natale, e questo ci aiuta a creare armonia. Si dice che il cristiano è un uomo di festa. Mentre ci prepariamo alla festa eterna, ecco, facciamo tante feste per essere più uniti, più in allegria, più nella sanità, e dimenticare un po' i problemi che ci assiliano quotidianamente. Io ne approfitto per voler ringraziare tutte quelle persone che hanno portato un contributo economico, oppure hanno portato del cibo, secondo l'iniziativa che abbiamo avuto, dal 24 al 26, e devo dire che c'è stato un certo riscontro, e di questo ne sono contento. Si vede che il cuore dell'uomo nei bisogni umani si allarga e rende partecipi anche le altre persone. Il messaggio è questo, camminiamo insieme, non lasciamo nessuno da solo, ma nel clima di festa, del reciproco aiuto, facciamo sì che il nostro cuore si allarghi di modo che possa entrare ogni persona bisognosa, perché in Cristo siamo tutti fratelli. Sono già disponibili i tagliandi per la curva Angelo Boscaglia al costo di soli 2 euro per assistere alla partita di domenica prossima al prestito a Gela e Pomigliano. 200 biglietti che potranno essere ritirati in prevendita, contattando il numero 348 69 34 843. Durante la pausa tra il primo e il secondo tempo verranno sorteggiati i titolari dei biglietti e dell'abbonamento presenti sia in curva che in tribuna, che potranno così ricevere gadget messi in palio dal club Biancazzurro. C'è l'informazione cinematografica, alle 17.30 al Cineteatro Antidoto verrà proiettato il cartone animato Rock Dog, alle 19.30 e alle 21.30 invece sarà proiettato il film Non c'è più religione. È tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito fin qui, a tutti voi arrivederci. Grazie a tutti.